Benvenuti al meteo di Telenuova, domani è lunedì 27 ottobre. La chiesa celebra San Fiorenzo Vescovo. Ancora venti orientali sulla penisola, il tempo inizia a peggiorare anche in maniera forte sulla Sicilia e coste ioniche del sud. Calo graduale delle temperature notturne sulle regioni settentrionali. Al nord cielo poco nuvoloso, nord-est più nubi sul nord-ovest, con piogge deboli sui settori occidentali del Piemonte. Al centro nubi diffuse e piogge sui versanti adriatici, più soleggiati i settori tirrenici. In Sardegna nel corso del pomeriggio e sera nubi e piogge raggiungeranno le coste orientali dell'isola. La pressione atmosferica resterà sui valori di circa 1023 millibar grazie alla presenza dell'anticiclone che spingerà masse di aria fredda e non molto umida. Il cielo sarà sereno e poco nuvoloso, salvo qualche addensamento in giornata. Temperatura in lieve aumento, venti moderati da nord-est. Mare poco mosso.